Fatto, 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 fatto C'è un altro, c'è un altro Oh, 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 aiuto, aiuto, fra Mi ha ucciso col mangaleno, cazzo Chiamo a Dimitri, ma Dimitri non so dove è andato Allora Polizia, soldi, io compro le borse per fare la polizia, soldi Sai che bisogna, oh, ci sbiglia, aspetta Ma scusi Che, stiamo comprando le borse, che vuol dire? Mi raccomando, non fate azioni sospette, che qua Ma non ci sento, che parli da culo? Non fate azioni sospette Parli da culo, non sento Non fate azioni sospette, perché se no poi Se no poi cosa? Dobbiamo arrestare Sì, arrestare, te con quella macchina arresti solo legali Che vuoi? Che vuoi? Ah? Ah, vai via, vai Bastardo Si si loro con quella macchina Stanno inseguire Semaforo rosso dobbiamo fermare Capito Ma motivo c'è? Stavo andando veloce guida pericolosa Ma io non vuoi veloce ma non è vero Ma io ho comprato macchina no Non posso provare? Per provare non deve provarla Lo sai, ho comprato quella macchina solo perché voi sbirri rompete il cazzo, capito? Curto io Eh, una bella squadra Oh, oh, oh E chi paga i danni ora? Lo paghi te i danni, coglione? Eh, si ferma di colpo che posso fare E da quattro veicolo, dai Per cosa? Per far controllo? La questa guida automatico Mi fai multa? Per fare controllo Ma io non pago tasse, perché questa macchina è elettrica Te paghi tasse, vai a pagare tasse, sbirro Ma scusa, ma te non capisci che è inutile che tu provi, ah, inutile Eh, ci provi, ci provi, vai, ci vediamo in autostrada, ciao, bello Prova, prova Eh, se li dobbiamo usare i mezzi, vanno più lecce di questo Ma che? Siamo a 400 già, bravo Perdè, quello arriva a 5 Chi? Ohhhh Miszi Mi risposto la macchina No, 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 non supera la cosa Che plei a 400 Vieni, 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 vieni Vieni, veni Vieni Guarda, sei Minneapolis che vedi da ultima volta la mi parlezio Ciao No, 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 no Son diversion? I dìご arcano ahahah wow l'automatica fa scritto Sbiru sta ancora provando è rotto il cazzo ma che vogliono vuoi sparare ah non ho armi rotte io non posso sparare dai oh facciamo pace ma facciamo pace ma che acquistare io ho già acquistato che vuol dire sfere e basta eh che è una sfere e basta sai che dai su su dai dai su dai su su dai su dai su su dai su su tesla roadster tesla roadster ma quanto è dura questi sbirri ho un ruolo di plessi che mi serve non posso sparare fra opp e infatti fra quelle lì ce la fanno ma no non voglio acquistare fra ma non vuoi da me scusa scusa ma non voglio acquistare non mi interessa la pubblicità minchia costruttore con la tesla vai andiamo ciao bello come stai livello 2 livello 3 noi siamo livello 1 vai ok prendiamo il lavoro di costruttore operai duri duri andiamo andiamo a lavorare radio ce l'hai? si radio 111 andiamo dove bisogna andare? ecco io devo lavorare qui però aspetta vado a lavorare nanana neana constructicket mi piace fare construct haircut sono operatore dove? nanana na mi piace fare muratore sono muratore nanananana muratore sono io nanananana no hai guadagnato mille dollari ancora ancora mi sto aspettare capo sempre qua mi deve aspettare capo no no io farà pino io farà pino vai paghiamo moratori fanno rapina bancomandiamo sposti fondiamo bancomand ciao bello a costa minchia con cazzo passato quali bancomat si sfonda vieni qua sfondo in sfondiamo un altro bancomand guardiamo se c'è qui qualche bancomand vai fermo vai si può fare si può fare guarda se arrivano sbiri eh punto sbiri quando si arrivano punto la vai se arrivano punto sbiri eh minchia rubare muratori rubano banca vai vai cazzo vai cazzo vai tre secondi due secondi vado a cattar soldi aspetta non guarda che arrivano fa un culo bancomand arrivano 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 monta 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 non sparare monta monta uh stiamo via vai ahahah 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 ah 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 Mi ha blindato Sono sceso Oh ti ha fatto Ti ha fatto fra Oh mi ha fatto Ma vaffanculo Ivan di merda Abbiamo finito i criminali Fatti due Era un moratore Non ero io Era un moratore Aiuto Aiuto Ma io sono un moratore Io ho fatto niente Io faccio un moratore No io sono un moratore Non comprendo i diritti Non comprendo i diritti No io non comprendo i diritti Io sono un moratore Io faccio un mure Io costruisco casa dove abiti te Moratore Aiuto Io ho fatto niente Aiuto Collega leggi diritti Ma che diritti Oh basta Non ho fatto niente io Ma che fai No me non ho fatto nulla Mi ha provato a sparare Ma non è vero È vero Io muratore Noi muratore Noi costruire casa dove tu caghi Dove tu lavi Cagliona Tu bugiardo Non è vero Io sparare te Io escarei da carcere Ti costruisco casa Senza le porte Io costruisco Io costruisco casa Io costruisco casa Senza le porte E tu non esci più Ti metto e basta Non sento un cazzo Parla con culo Parla Tu parli con culo Non ti sento Scusa Non comprendo Non ho capito Io voglio avvocato 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 Guarda Avvocato 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 Io muratore Cazzo vuoi Scusa Ah sì 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 Io vado in carcere Sì Adesso Adesso Porco cane Oh ma che cazzo è Che bastardo Ciao bello La macchina Mi presti macchina Grazie Ma va vangulo Vai scende cazzo Monta monta Ma va vangulo Cazzo parli È stupida Bellissimo sta macchina Qua Menti cintura Menti cintura Menti cintura Menti cintura Scusa Scusami bello Non volevo Dov'è Oh non c'è benzina Proprio in posto giusto C'è Hamza qua Allora Questa è Hamza vai Vieni monta 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 Vieni C'hai pistola Eh no fega C'hai un cazzo Dai ora se la prende C'è un cazzo C'è un cazzo Se va a prendere Se va a prendere Ma dove ti hai comprato i colpi C'hai i portodarmi No No ma dai a lui A me non mi serve A me No allora i colpi C'è uno Due Fazzio 36 colpi Sono i pacchi Te prendi pistola in mano E poi clicca sui colpi Così ti carica Se no non ti carica Se no metti colpi sul mano Sul tasto 2 Aspetta sta caricando credo Banno Ecco vai Ora posso fare quella R A un culo cazzo Oh prendete questo in ostaggio Vai ostaggio Monta in macchina Vendi colpi Sì sì Vendo colpi Vieni in macchina Sali in macchina Colpi Vendi colpi Ma che colpi Sali in macchina ti ho detto Colpi Saliamo in macchina Allora pelli Questo è ostaggio Monta Vieni vieni Che colpi Colpi vuole questo Se non ha colpi Eh non ha colpi Ora sei ostaggio Colpi Non si fa rapina Questa qua Vediamo Allora Vai ostaggio Vai dentro Fai slash skin Che ti cambiano Vistete dopo caccia Ah radio Cazzo Ti sono scordato A prendere radio Porco cane Anche me i radio servono Andiamo a comprare radio Vai Cazzo No andiamo a comprare Vai Mi sono scordato di radio Ma poi non c'è Rimani lì Arriviamo No 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 Che rimani Vieni 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 qua Vieni qua Vieni qua Vieni vieni Monta veloce Siamo un urgenza Bello questo timas Amiga No questo è vecchio Ultimax Quello nuovo È caduto Andiamo Quello è vecchio Ultimax Quello nuovo è più bello Vieni Ah Non hai vita Vieni vieni Oh C'hai C'hai il kit C'ha 11 vita lui Dai prendo io radio vai Uno Due Tre E non c'è Ok ecco la grazie mille Vieni vieni qua Vedo radio Ma te che cazzo di frega radio Te ostaggio radio Eh Mi serve la sua Che radio Che radio Vieni qua Non te Io volevo scopo colpi Te colpi col cazzo colpi te Zitto Porco cane Allora rubo io vai tranquilli Bagnetto Ostaggio davanti Bagnetto Ti faccio io bagnetto ora Sempre rapina Sempre duro Allora Bella cassa Bella cassa No non è Non è Luca Berto Luca Berto Luca Berto Che chiama Tua madre Allora Oh porco cane Sti lockpick Eh ragazzi Sono Ho rotto tutti i lockpick Non c'ho più lockpick Non ho più lockpick Oh che cazzo vuoi te Sbiro Che cazzo vuoi te Eh che cazzo vuoi E te che cazzo vuoi Aiuto Che ti aiuta Io voglio il cazzo di ostaggio Non ti aiuta nessuno Eh capito Ostaggio Stai fermo Ostaggio Che vuoi te ostaggio Acqua Voglio ostaggio E allora Che Io voglio fuga Tu hai fuga libera Allora mi dai ostaggio E voi quanti siete Che 30% bottino Siete due e basta Siamo quattro Ma vi scoppiamo Così Sti cazzo Noi scoppiamo voi uguali Ah sei pronto allora Sì 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 Va bene allora Ma sono sirena allora Allora ha fatto Però voglio cazzo di ostaggio Libero Ostaggio esci Esci da casa Ostaggio esci da casa Ostaggio Ostaggio esci Vai ostaggio esci Vieni Emza Montiamo in macchina vai Frate ti do documenti nuovi Tranquillo Lui si chiama Emza Lui è Emza eh Trovatela su Instagram Allora Ma che cazzo Mi hanno sparato macchina Sti cuglioni Ma anche una fuma Ma ci arriva Ragazzi vediamo Ho l'ansia Ma vediamo se Sono ancora Freddo o caldo Eh macchina Ma io non parlo inglese Cosa ha detto Eh ho detto Ti voglio seguire su Instagram Eh si Vediamo ancora Oh porco dio Ste pit di merda Ma perché mi hanno sparato macchina Io non ho capito questo Solo questo Una volta che urano sta roba È un'altra Ma che mi chiama Allora andiamo Ma dove vanno Sopra vanno Vai 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 scendiamo Vai Vai Tranquillo Aia 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 Spara Aia Spara Ha blindato fatto uno vai vai lasciamo a Emsa sparare vai Emsa le macchine sono blindate attenti no cazzo attenti attenti se io sto vicino a te ti posso fare così guarda ma che fai che ne pensi vai vai spara attento sono a sinistra io c'ho pochi colpi bisogna fare perché poi si raccatta un po' di colpi ma perché cado? è perché usi alt se usi alt fai cadere quelli vicini ma perché mi spari? porco cane porco cane Emsa è difficile devi cambiare il tasto alt e cose di trazione ho cambiato il tasto per parlare con l'HG ma però se uno spirruetti sono otto fra curami io 28 io non c'ho più colpi io non ho più colpi vai ecco tu fatto 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 eh ma però c'era in culo figa ragazzi ve lo qua io ho fatto due non so dove quell'altro eh ma io non riesco a vedere neanche uno figa io vedo aspetta aspetta ecco è qui a sinistra fammelo fare a me vai 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 lì vai lì da lì mi sa che c'è un altro dietro macchina dietro macchina nooo Emsa ma chi è che sta lì fu campierato? coprimi è qua è qua fatto 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 c'è un altro c'è un altro oh oh aiuto aiuto fra mi ha ucciso con un galeno cazzo dai oh ma che fai? ma non muore questo ah no è in bordo ma che cazzo è? non so se non sa si spavano in culo drop e perché c'hai biretta? o c'hai fix? no c'ho fx cura vai cura Emsa cura Emsa cazzo queste macchine di merda fra mi ha ucciso con un galeno cazzo mamma mia che sbire di merda si è divertito? ma come ho fatto questo qua? sono trappi oh prendo i colpi aspetta guardami tiravo un pugno e morì vai perquisita raga prendete i colpi prendete i colpi allora fai f1 interazioni deruba vai ciao bello ciao bello ciao bello c'hai qualcosa per me bello? non c'ho niente per te bello cazzo bello io lo prendo lo stesso colpi grazie è bello ma non ce l'ha colpi quali là? switchblade eh perché ho già preso io e vi do io tranquillo ecco perché ha preso ha preso il manganello andiamo andiamo ma fa ridere fra mi ha ucciso con un mangaleno fra mi ha ucciso con un mangaleno fra vieni vieni mamma mia come cazzo possibile dai fatemi un'altra fine perché cosa qua io non capisco anche come funziona qua vai andiamo andiamo allora vi devo dar colpi e mi dai un po' di colpi a me metto in cruscotto 5 e 5 vai prendete voi nemmeno fammi fai i f1 e vi lascio anche due armor uno per te e uno per te vado e dove l'arri aspetta ho lasciato in cruscotto in macchina mi fai un capriola vuoi fare? prova oh voglio fai io voglio fai io rolos cazzo grazie di francesco vuole fai io rolos vai 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 si falla non con la radio però ah vai 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 aspetta eh su rix bisogna andare a fare queste cose aspetta lo rifaccio perché faccio troppo veloce faccio io faccio io fermo porco can fai buggata eh bravo poi vieni poi dopo vieni su rix che facciamo sta cosa per bene perché qui qui non è come su pvp si si qua ti rinculo vai diamo grazie a tutti